Un italiano su quattro pensa che la Bibbia sia stata scritta da Gesù. Una percentuale molto bassa, soltanto il 30% degli italiani è in grado di elencare i quattro evangelisti. Chi sia Lutero non lo sa il 60% degli italiani. E contemporaneamente un numero crescente di italiani, si parla di circa 400.000 dei nostri concittadini, aderisce a una chiesa pentecostale, forse un milione di italiani pratica yoga e esperienze religiose diverse da quelle tradizionali si vanno diffondendo sempre di più, per non parlare di Islam. Allora, conosciamo poco, meno, la nostra tradizione, conosciamo poco anche quello che sta avvenendo di nuovo con la religione, e come la religione sta cambiando. Ecco, il Centro per le Scienze Religiose di FBK, insieme alla Fondazione, vuole rispondere a questo bisogno, un bisogno di conoscenza del vecchio e del nuovo, un bisogno anche di azione rispetto a quello che sta cambiando. Facciamo ricerca, facciamo ricerca con gli attori religiosi, facciamo anche altro, siamo presenti nelle scuole, ad esempio, ci interessiamo di che cosa sta cambiando nella sanità rispetto alla religione. Tutto questo è ciò che noi descriviamo sotto la nostra mission, religione e innovazione. Quest'anno proponiamo un ciclo di incontri per la cittadinanza, accessibili proprio sul tema religione e innovazione, dall'intelligenza artificiale a videogiochi e religione, dagli nuovi spazi del religioso, dove preghiamo, alle trasformazioni dell'impegno sociale, addirittura economico, delle religioni. Ecco, tutto questo sarà oggetto di un ciclo di incontri di ricerca, che poi emergeranno per il grande pubblico in forma di incontri accessibili in italiano, in cui proveremo a coniugare con il pubblico, a presentare al pubblico i risultati delle nostre ricerche e in qualche modo a far entrare il pubblico nella nostra attività di ricerca.